Situazione pressoché stabile in Puglia per l'emergenza sanitaria, nonostante l'allarme lanciato nell'ospedale di Castellaneta dove risultano positivi medici e infermieri. Il sindaco preoccupato per il rischio chiusura del nosocomio. Il numero del contagio cresce lievemente e la situazione sembra al momento reggere. La scuola ai tempi del coronavirus può attendere. Dopo la decisione della ministra Azzolina già si fanno i conti con il mancato rientro previsto inizialmente il 3 aprile. Intanto è ufficiale, gli esami di maturità non saranno semplificati. Il Covid-19 non frena la solidarietà dei volontari della gioia dell'associazione Mister Sorriso di Taranto che mette in campo alcune iniziative a sostegno morale dei più piccoli ricoverati in ospedale. Sport Calcio, ai nostri microfoni tecnici di Virtus Francaville e Brindisi, Trocini e Ciullo hanno raccontato il momento delle rispettive squadre direttamente dalle loro abitazioni. Intanto il Lecce approfitta della sosta per recuperare gli acciaccati e Manzo ci racconta la sua esperienza a Taranto. Buon poveriggio come anticipato dai titoli di apertura. Ci dobbiamo riferire ad una situazione pressoché stabile, quella pugliese per l'emergenza sanitaria da Covid-19. Nonostante l'allarme lanciato nelle ultime ore nell'ospedale di Castellaneta dove risultano positivi medici ed infermieri. Il sindaco preoccupato per il rischio chiusura del nostro comio. Tra l'altro lo sconteremo proprio in diretta nel corso di questa stessa edizione del nostro OTG con i vari approfondimenti. Il Presidente Emiliano ha intervenuto poco fa con la sua iniziativa in merito a questa grave emergenza che si sta registrando tra l'altro lì in questo comune della provincia Ionica. Intanto per il resto della Puglia il contagio cresce lievemente. La situazione sembra al momento quindi reggere. La pandemia del Covid-19 comunque continua a stressare. Si parla di stress da adattamento. Eppure le regole imposte, almeno quelle destinate ai comuni cittadini, non sono così difficili e complicate da seguire. Basta ricordarsi che possono salvarci la vita. Sono troppo lontani quei tempi per essere ricordati dalle attuali generazioni. Tempi in cui al suono delle sirene si correva nei rifugi antieiri. Scarseggiava persino l'acqua che veniva centelinata. Eppure tutti hanno cercato di resistere. Oggi, in fin dei conti, ci viene chiesto di rimanere a casa. Semplicemente, con i nostri comfort. Eppure c'è che ancora sottovaluta l'importanza di questa semplice regola di base. Secondo le stime, i prossimi giorni saranno terribili per la Puglia, che potrebbe ritrovarsi a fronteggiare il picco della pandemia esattamente come la Lombardia, ma con la sostanziale differenza di strutture sanitarie non alla pari. In numeri per la terapia intensiva e in presidi sul territorio per l'analisi immediata dei tamponi. Basti pensare, solo per citare un esempio, che i tamponi di Brindisi e Taranto vengono analizzati nell'Istituto Zooprofilattico di Foggia. Tre ore, quindi, per raggiungere i laboratori, sei ore circa per l'accertamento e poi i tempi del ritorno. Totale, dodici ore circa, in cui i soggetti interessati hanno la possibilità concreta di infettare altri. Ed ecco che la velocità dell'analisi dei tamponi diviene fondamentale per arginare il contagio, poiché appare poco fattibile ancora adesso riuscire a mettere tutti, nell'attesa degli esiti diagnostici, in una sorta di quarantena cautelativa. In attesa che arrivi in quantità sufficienti a tutti il materiale atto a misure di prevenzione individuale, restiamo a casa, invitando inoltre ogni categoria sociale alla massima prudenza, a partire dai medici, di base ed ospedalieri, facili veicoli dell'infezione. Secondo le teorie darwiniane, che ora sembrano tornare in mente quando pensiamo alla conservazione della specie, non è il più intelligente a sopravvivere, ma chi si adatta meglio all'evoluzione del contesto sociale. Mai come ora la scienza ci soccorre e la storia invece ci aiuta a non dimenticare che ce la possiamo fare. L'importanza dell'adattamento alle regole è importantissimo, fondamentale in questo momento piuttosto delicato. Partiamo allora, prima di andare nei singoli territori, dal bollettino ufficiale della Regione Puglia. Salgono a 466 i casi positivi nel tacco d'Italia, sono 42 i nuovi test, risultati quindi positivi. Tra le persone decedute questo è l'ultimo aggiornamento, quello di ieri sera del governatore Emiliano. Poi nel corso del Tg invece vi aggiorneremo su quelli che sono i dati delle ultimissime ore. Intanto il punto regionale. Sono 42 i casi positivi di coronavirus in Puglia al termine della giornata di giovedì. Sono stati effettuati 613 test in tutta la Regione. Dei 42 casi positivi, 18 in provincia di Bari, 16 in quella di Foggia, 4 in provincia di Brindisi, di cui uno ufficializzato nel comune di Oria, poi due in provincia di Taranto, uno nella Bat e uno in provincia di Lecce. Sono decedute tre persone, una di 79 anni della provincia della Bat, una in provincia di Bari e infine una persona in provincia di Foggia. Con questo aggiornamento salgono a 466 i casi positivi di cittadini residenti in Puglia per l'infezione da Covid-19 rispetto ai 424 del giorno precedente. I dipartimenti della Asla hanno attivato le procedure per l'acquisizione epidemiologica finalizzata a rintraggiare i contatti stretti. Come dicevamo, un caso è stato accertato nel comune di Oria, come ha detto il sindaco Maria Carone con un messaggio attraverso la pagina social Facebook. Voglio tranquillizzare tutti. Ieri ho avuto certezza del secondo caso, quindi visto che si sono verificati a Oria, due casi accertati. Uno di questi ormai ha completato anche il periodo di quarantena e sta benissimo. L'altro caso, per l'altro caso dovete essere tranquilli perché logicamente queste persone sono monitorate dalla Asla e sono in quarantena. Però continuo a sollecitarvi di non uscire se non che per necessità urgenti. La mattina vediamo in giro tantissime persone e questo non è corretto. Non è corretto nei vostri confronti, nei confronti dei vostri familiari e nei confronti di tutti. Cerchiamo di essere ordinati, di essere corretti perché questo ci consente di portare avanti una situazione che si stabilizza in senso positivo e non in senso negativo. Quindi restate a casa. Passiamo a Brindisi, in quattro nuovi casi di coronavirus nella provincia adriatica. Ma ciò che preoccupa è l'alto numero di positivi rispetto alla popolazione, quindi con i numeri in maniera proporzionale. Intanto il laboratorio per l'esame dei test nel capoluogo non è stato ancora attivato. Sono quattro i nuovi casi di covid-19 positivo in provincia di Brindisi, secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla regione Puglia. Così diventano 75 in tutto da quando l'epidemia è iniziata, ma il dato più allarmante è quello riguardante la percentuale di contagiati rispetto al numero di abitanti. Brindisi con i suoi 1,89 casi ogni 10.000 abitanti è secondo in Puglia solo rispetto a Foggia. All'ospedale Perrino sono ricoverati 32 pazienti positivi al covid-19 e altri 24 con sintomi sospetti per un totale di 56 persone. Tra i positivi, quattro sono in terapia intensiva, 17 in pneumologia e 14 agli infettivi. I casi sospetti sono così distribuiti, nove in endocrinologia, quattro in obi e sette in otorino-laringoietria. La direzione dell'ospedale sta attivando anche dei posti letto da destinare ai casi sospetti in chirurgia plastica. Resta il problema dei risultati dei tamponi, perché al contrario di quello che era stato annunciato, non è stato ancora attivato il laboratorio per l'esame dei test presso l'ex ospedale di Summa. E dunque i kit continuano ad essere inviati agli ospedali riuniti di Foggia, con tempi tecnici che arrivano sino a 12 ore prima di ottenere l'esito. Un problema decisivo per individuare immediatamente i soggetti positivi e mettere in quarantena possibili altri contagiati. Emergenza coronavirus in Salento, sabato dovrebbe aprire i battenti il DEA di Lecce. Lunedì, dopo i lavori di sanificazione e riconversione, l'ospedale di Copertino. Ha dato esito positivo il test al Covid-19 effettuato su un infermiere di Gallipoli in servizio al locale Nosocomio Sacro Cuore di Gesù, presso il reparto di medicina. A quanto si apprende, l'uomo era già in quarantena fiduciaria quando si seppe la positività al coronavirus della moglie in servizio presso i laboratori analisi dell'ospedale San Giuseppe da Copertino. Avviate, come da prassi, tutte le operazioni di verifica e sicurezza del reparto. Annardò quarantena per 16 persone dipendenti di una ditta che si occupa di lavori di manutenzione in città. Un loro collega è risultato positivo al test. Intanto lunedì prossimo dovrebbe tornare ad essere operativo l'ospedale di Copertino, oggetto in questi giorni di sanificazione e riconversione. Il Nosocomio accoglierà i positivi al Covid-19. Proprio a Copertino attualmente ci sono 16 positivi e 180 in quarantena. Sabato invece, dopo le polemiche legate all'impianto di ossigenazione, dovrebbe aprire battenti il Dia di Lecce. Nelle scorse ore sono stati ultimati i lavori di collegamento dell'impianto di rifornimento dell'ossigeno dall'ospedale Vito Fazzi al Dipartimento d'Emergenza e Accettazione. E adesso da Lecce ci spostiamo a Ginosa, ma tra poco invece saremo collegati con Castellaneta, con il sindaco Gugliotti. In questo Tg anche l'intervento del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ma adesso ci spostiamo, come detto, a Ginosa, dove una donna è risultata positiva al Covid-19 nella Marina. La polizia locale lì sul posto si è attrezzata per effettuare controlli più efficaci, si è dotata di, pensate, un drone con termocamera. È proprio il caso di dire che la tecnologia, mai come in questo frangente storico per l'Italia, si rivela utile ed efficace. Ho sentito i medici dell'ASL e una nostra concittadina di Marina Regginosa è stata contagiata. La stessa è ricoverata all'ospedale Moscati di Taranto. Ho sentito anche suo marito e a loro faccio un grosso, grossissimo in bocca al lupo. Per le vie brevi i medici dell'ASL mi hanno tranquillizzato sul fatto che i casi sono assolutamente, in questo caso è assolutamente circoscritto, hanno esteso le quarantene fiduciarie ai suoi familiari, lo hanno esteso anche ai contatti che questa persona ha avuto negli ultimi giorni e quindi adesso ci sono tutte le analisi, tutte le verifiche, però la situazione è sotto controllo ed è circoscritta. Così il virus arriva a toccare anche la città di Ginosa, come ormai da consuetudine è il primo cittadino, Vito Parisi, a fornire l'ufficialità. Intanto la polizia locale ha deciso di impiegare un drone apposito per una visione dall'alto di un'area più ampia per il miglior monitoraggio del territorio. L'apparecchio riesce a fornire in tempo reale le riprese di ciò che avviene ed è dotato di termocamera, in grado quindi di rilevare le fonti di calore. Sarà utilizzato, spiegano, soprattutto dove vengono segnalati assembramenti. Proseguono senza soluzione di continuità, fanno sapere dal comando anche i controlli in auto e a piedi. Nelle scorse ore l'attività di pattugliamento degli agenti è stata seguita in prima persona dal sindaco. Avviso alla cittadinanza, avviso alla cittadinanza, alla luce delle norme imposte dal Governo centrale Grazie a tutti. Nel frattempo il presidente Emiliano ha denunciato il caso accaduto all'interno dell'ospedale Sampio sollecitando il licenziamento dell'eventuale responsabile e segnalando l'episodio alla procura. Intanto sentiamo in dettaglio che cosa è accaduto nel servizio che stiamo per proporre alla vostra attenzione. Nel frattempo vedo già collegato intanto il sindaco di Castellanetta, Gugliotti, che sentiremo immediatamente al rientro in studio e poi anche il governatore Emiliano. Buon pomeriggio sindaco. Buon pomeriggio sindaco. Ascoltiamo il servizio, seguiamo il servizio realizzato dalla nostra redazione e dopodiché le chiederò alcuni dettagli su questa situazione che necessariamente deve essere arginata. Andiamo col servizio. Sono sette i casi positivi al coronavirus nell'ospedale Sampio di Castellanetta. Tre sono medici, altri tre infermieri ed una caposala. Stanno bene, la maggior parte di loro non evidenzia sintomi, soltanto due ma in maniera lieve e non hanno grossi problemi. Ci sono tre casi dubbi che verranno ulteriormente esaminati nelle prossime ore. Intanto è stata avviata una verifica più ampia, sono stati eseguiti numerosi tamponi, domani si avranno i risultati. Il contagio, stando a quanto riferisce lo stesso primo cittadino, si sarebbe sviluppato all'interno dell'ospedale Sampio. Sette casi positivi e tre dubbi. I tre dubbi devono essere rifatti, quindi verranno rifatti tamponi a queste tre persone. Per quanto riguarda i sette casi positivi, tre sono medici primari di reparti e quattro sono infermieri, che due due siano caposala. Devo dire che di questi sette quasi nessuno ha sintomi, credo un paio hanno lievi sintomi, ma niente di grave. Quindi sono quasi tutti asintomatici. È in corso ora una campagna importante, come dire, imponente di tamponi. Quasi tutto, lo credo, tutti i dipendenti dell'ospedale di Castelanilla sono sottoposti quindi a tampone. E avremo i risultati nella giornata di domani per avere il quadro chiaro della situazione relativa all'intero ospedale. Probabilmente, quindi è d'obbligo usare il condizionale, tutta questa situazione di emergenza e dell'emergenza che stiamo vivendo all'ospedale di Castelanilla potrebbe essere stata causata da una violazione ai protocolli previsti per combattere l'epidemia del Covid-19. Buon senso che forse qualcuno avrebbe dovuto tenere presente nelle proprie azioni quotidiane per la tutela dei concittadini, dei pazienti e di un intero territorio. E così lo chiediamo al sindaco Giovanni Gugliotti, finalmente la possiamo ascoltare, almeno telefonicamente, per tornare sulla denuncia del governatore Emiliano sul caso di Castelaneta. Emiliano sollecita il licenziamento dell'eventuale del presunto responsabile e ha già segnalato l'episodio alla procura, un episodio grave perché potrebbe derivare proprio dalla responsabilità di un medico. Buon pomeriggio sindaco. Non siamo fortunati oggi con questo collegamento con il sindaco Gugliotti. Ci riproveremo in un'altra occasione. Sindaco ci sente? No? Assolutamente sì, ora sì. Ora sì, ce l'abbiamo fatta in estremis, proprio poco prima che cambiassi argomento per non infastidire i nostri telespettatori. Invece ce l'abbiamo fatta, mi pare indispensabile, la sua posizione relativamente a questo argomento che oggi, in queste ore, sta assumendo i contorni, tutti i contorni, e prende forma una certa gravità rispetto all'episodio. Assolutamente sì, grazie innanzitutto per l'ospedalità. Fino a ieri Castelaneta e il suo ospedale non avevano ancora avuto un contatto diretto con questa bruttissima genia. avevamo avuto notizia, quindi, di un medico che si riammottola, ma che lavora all'ospedalità, ma non immaginavamo che si potesse verificare quello che è successo. Perché c'è stato un contatto massivo, cioè come è emesso dai risultati dei 54 tamponi effettuati giorni fa. Quindi già ieri sera, mi sono arrivato alle prime comunicazioni, questa mattina ho avuto l'esito di un incontro con quelli di direttore sanitario, dottor Stato, direttore sanitario dell'ospedale. Ho avuto il quadro più chiaro, quindi queste 7 casi più positivi, più 3-4 dubbi che devono rifare il tampone. E sono 3 medici, 3 primari di importanti reparti dell'ospedale di Castelaneta e 4... Ecco, Sindaco, non voglio interromperla, ma abbiamo già raccontato, documentando con dati e numeri, quello che purtroppo è accaduto. Naturalmente l'evoluzione, l'escalation di questo contagio potremmo raccontarlo invece soltanto in una fase successiva. Ma l'aspetto molto grave, al di là dell'emergenza sanitaria, di per sé già gravissima, è l'aspetto etico. Il messaggio che evidentemente viene fuori da queste azioni che poi saranno analizzate in un iter giudiziario, visto anche l'intervento del governatore Emiliano. Invece in questi giorni stiamo raccontando di medici eroi, quindi un po' questa notizia fa da contraltare a quello che si vive in questi giorni nelle corsie dei vari ospedali. Assolutamente sì, stamattina ho potuto verificare che ci sono tantissimi medici, comunque paramedici, ospedali sanitari che a rischio della loro salute, semmai che in questo momento è opportuno dirlo, stanno lavorando intorno a notte per stamponare le situazioni di emergenza che sta vivendo da poco, purtroppo l'ospedale di Cazzaneta, negato a un'epidemia di poveri 19, ma anche per garantire il corretto funzionamento dei reparti, perché in Sina è in posto un intervento di urgenza, una signora di emergenza. Ha il timore che chiude il nosocomio, Sindaco? Spero di no l'intero ospedale ho perplessità su un paio di reparti, ma rispetto a questo sto per sentirmi e vedermi, forse anche con il dottor Stato e il direttore sanitario del Presidio, con il medico competente dei proficini e poi con il direttore del Presidio. Va bene Sindaco, allora intanto attendiamo aggiornamenti, ricordo a tutti i telespettatori che già sanno la prossima edizione alle 19.25, rigorosa diretta, per aggiornarvi anche su questo. No, non toglietemi la linea, avete già fatto, volevo chiedere ancora, no, c'è ancora il Sindaco Gugliotti, perché proprio in maniera molto veloce, Sindaco, perché poi dobbiamo andare avanti e chiudere il nostro telegiornale, anche perché a questo punto ci pare di capire che il leader della giustizia farà il suo corso, in questo momento invece la salute è prioritaria e garantire la salute al territorio, tra l'altro come primo cittadino è il primo garante della salute pubblica della sua comunità, quindi le energie vanno incanalate in questo senso. Le posso chiedere invece al volo quello che lei chiede relativamente alla chiarezza dei dati e lo fa insieme ad un altro Sindaco, quello di Taranto, Rinaldo Melucci, velocissimo Sindaco. Sì, assolutamente sì, già nei giorni scorsi noi ci siamo confrontati con tutti e tutti i nuovi sindaci della provincia di Taranto, perché è successo che siamo gli ultimi che vengono a sapere se ci sono delle persone in quarantini, se ci sono delle persone positive. Quindi abbiamo chiesto una netta inversione di tendenza, i sindaci devono essere tempestivamente avvertiti, devono essere i primi a saperlo, perché come adesso lei sono i responsabili della salute pubblica nel giusto giro cittadino. Grazie, grazie al Sindaco Giovanni Gugliotti. Ci stiamo a Brindisi. Parcheggi gratuiti, sino al prossimo 3 aprile, lo stabilisce con un'ordinanza il Sindaco Riccardo Rossi. Intanto nel parcheggio dell'ospedale sono comparsi manifesti di ringraziamento a medici e infermieri. L'amministrazione comunale di Brindisi rende noto che tutti i parcheggi a pagamento sono temporaneamente sospesi a causa dell'emergenza Covid-19. Lo ha stabilito il Sindaco Riccardo Rossi con un'ordinanza che stabilisce dal 20 marzo e fine al 3 aprile la sospensione dei provvedimenti riguardanti l'applicazione della tariffazione della sosta all'interno degli appositi stalli di colore blu presenti sul territorio comunale, ad eccezione del parcheggio recintato ubicato in prossimità dell'aeroporto del Salento. Nei giorni scorsi analoga decisione era stata adottata dal Sindaco di Francavilla, Antonello Denuzzo, e da quello di Mesagne, Toni Matarrelli. Intanto nel piazzale dell'ospedale Perrino sono comparse due vele sulle quali sono affissi i manifesti di ringraziamento a nome della città, ai medici e agli infermieri che in queste settimane rappresentano la prima linea nella lotta alla diffusione del virus. Intanto, con un messaggio, gli operatori del 118 hanno ricordato che chi, chiedendo l'intervento dell'ambulanza a casa, non segnala i sintomi di Covid-19, ossia febbre, tosse e difficoltà a respirare, rischia la denuncia penale, perché mette a repentaglio la salute dei soccorritori che devono essere preparati ad affrontare il rischio di contagio. Si dicono preoccupati e non tutelati i pescatori di Gallipoli e poi lanciano l'appello. Questa emergenza si può combattere solo col buonsenso. Restate a casa. Escono le due del mattino, rientrano quando oramai il sole cale intorno alle 17, una giornata trascorsa in mare nella speranza di vendere il pesce pescato. Ma la gente non esce di casa, il pescivendolo di fiducia almeno per il momento non esiste, i ristoranti sono chiusi, eppure ci sono bocche da sfamare quelle delle famiglie dei pescatori gallipolini che si dichiarano preoccupati e non protetti. Siamo chiamati ad andare a pescare solo con la forza della disperazione, perché c'è stato un crollo dei prezzi, perché tutti i grossisti sono chiusi, non prendono il nostro pesce, i ristoranti chiusi, le pescherie, tutto chiuso. Le promesse non ce ne sono state fatte, non ci hanno detto niente, non ci hanno detto se ci sono aiuti o meno. Abbiamo cercato di interagire con gli organi competenti, tipo con la Capitaneria di Porto, ma nulla di fatto ancora. Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta, non abbiamo ricevuto niente. Come categoria, finora non vi siete sentiti molto tutelati, giusto? Devo dire la verità, no, non ci siamo sentiti molto tutelati. Chi di competenza non ci ha considerati sino ad oggi. Vorrei dire soltanto una cosa, pensate che il nostro paese vive con le nostre forze, con quello che sappiamo fare al mare, perché il turismo vive da noi e vive con noi. Noi siamo gli uomini del mare, siamo gli uomini che ogni anno, giorno per giorno, danno da mangiare il pesce fresco a tutta la popolazione e ai paesi anche di buona parte dell'Italia. Vorrei dire soltanto una cosa, guardate la situazione che stiamo vivendo, cercate di darci un po' d'aiuto. Questa è l'unica cosa che vorrei dire. E poi voglio dire una cosa che stanno dicendo tutti. Rispettiamo quello che stanno dicendo, perché questa cosa non si vincerà né con le medicine né con niente. Secondo me si vince solo col buon senso. L'asola di Taranto ha presentato il piano per fronteggiare un eventuale picco, il famigerato picco di cui abbiamo parlato in questi giorni, in casi di casi positivi sul territorio ionico. Ma i dati non convincono il sindaco Melucci, che quindi chiede chiarimenti al direttore generale dell'azienda sanitaria Stefano Rossi. La ASL di Taranto ha comunicato le principali azioni messe in campo per un possibile picco di casi di coronavirus sul territorio ionico. L'hub di riferimento a prendere in carico chi è affetto da coronavirus è l'ospedale Moscati, individuato come uno dei nove ospedali pugliesi dedicati alla Covid. Nel piano operativo elaborato dall'ASL di Taranto sono stati messi in filiera tutti i posti letto di terapia intensiva dei presidi ospedalieri della provincia, a cominciare dal Santissima Annunziata, con quelli delle case di cura private che hanno già dato la loro disponibilità. Più precisamente il piano ospedaliero coronavirus dedica al Covid 5 posti letto di terapia intensiva presso gli ospedali Santissima Annunziata e Moscati, a cui se ne aggiungono 7 attivabili per un totale di 12. Poi 15 posti letto di pneumologia al Moscati, 20 attivabile per un totale di 35. E ancora 25 posti letto per malattie infettive al Moscati, con la possibilità di attivarne ulteriori 15 per un totale di 40. Infine per il trattamento terapeutico post-Covid sono stati attivati 32 posti letto del presidio post-acuzia al San Marco di Grottaglie, 12 posti letto all'ospedale di comunità di Massafra. Sono eventualmente attivabili anche 20 posti letto dell'ospedale di Mottola. Intanto il sindaco di Taranto Melucci ha scritto al direttore generale dell'ASLA Stefano Rossi, al quale chiede chiarimenti in merito a questa riorganizzazione delle strutture ospedaliere della provincia di Taranto. Un'ultima missiva il sindaco di Taranto l'ha inviata al prefetto di Taranto Demetrio Martino per chiedere quotidianamente la trasmissione delle informazioni e dei relativi dati sanitari locali. Tamponi a tutte le forze di polizia per combattere anche il virus nelle sue forme asintomatiche. Questa è la proposta del senatore Roberto Marti della Lega. Gli uomini della Polizia di Stato e tutte le forze dell'ordine devono essere tutelati con ogni mezzo in questo periodo di pandemia. Non possiamo consentire che si ammali nemmeno uno di loro. Questa è la chiara presa di posizione del senatore della Lega Roberto Marti, il quale, dopo aver raccolto l'appello del segretario nazionale della SAP, Francesco Pulli, ha acceso un riflettore in questo momento di emergenza sanitaria, proprio sulla sicurezza degli uomini e delle forze dell'ordine. Gli uomini della Polizia di Stato, ma non solo gli uomini della Polizia di Stato, tutte le forze dell'ordine devono essere in qualche modo tutelati da questa pandemia, porre tutti gli uomini e le forze dell'ordine al tampone, perché è una situazione che porterebbe sicuramente a maggiore sicurezza. Non possiamo correre il rischio che si ammali uno di loro, non possiamo correre il rischio che loro vadano avanti e girando, perché sappiamo che questa purtroppo iattura è una situazione che può colpire anche in maniera sintomatica. Quindi non sappiamo quante persone loro incontrano, se gli stessi uomini delle forze dell'ordine magari sono asintomatici. Questa situazione, almeno per le persone che sono in frontiera, come gli uomini che svolgono questo stupendo compito in questa fase della nostra storia dolorosissima nel campo sanitario, come le forze dell'ordine dovrebbero essere sottoposti al tampone. Tamponi per tutti quindi, ma anche la certezza che tutti gli uomini di Stato in prima linea siano almeno provvisti di guanti e mascherine. Diciamo che in questa emergenza si sono trovati sguarniti anche delle misure primarie, c'è mascherine, guanti no, ma mascherine sicuramente sì, ci sono anche molte strutture sanitarie che hanno carenza in tal senso di mascherine. Gran lavoro dei volontari della protezione civile per la consegna a domicilio di farmaci e alimenti. Questa mattina abbiamo seguito alcune fasi di questa consegna a Taranto con alcuni di loro che si sono prestati dinanzi alle nostre telecamere. A Taranto la protezione civile lavora senza sosta, questa è stata una delle tante mattinate piene, farmaci, beni di prima necessità, adesso invece dalla città vi state spostando alla periferia, Paolo VI, per un medicinale particolare, anche questo fa parte evidentemente di quello che accade. I nostri purtroppo malati terminali. Sì, dobbiamo dire purtroppo in queste circostanze che non sono certamente allegre, la protezione civile, i volontari, dal comune di Taranto attraverso i servizi sociali, attraverso anche il comando di polizia locale, stiamo cercando con i volontari di dare quella assistenza e quella solidarietà a persone non autosufficienti. Persone, come ha detto lei poco fa, purtroppo, che con dei mali davvero gravi, hanno in queste situazioni delle difficoltà maggiori. Un applauso, io devo confermarlo, ai volontari della protezione civile e non solo, tutti i volontari che in questi giorni stanno dando una mano. Quanti volontari sono impegnati? Ma io penso che saranno forse un centinaio. I tarantini rispondono bene, in tanti vi chiamano? Vi chiamano in tanti è la più grande soddisfazione. Quei grazie credo che valgano molto di più di tanti soldi. Come mai hai deciso di diventare volontario e svolgere queste attività in questo periodo particolare, invece di stare a casa comodamente? A me piace aiutare gli altri, quindi ho deciso di fare il volontariato dall'età di 18 anni. Sono iscritto alla protezione civile di Dottor Russo e la gente che ci riempie di gioia vederli perici. Su Facebook, ma anche con il classico passaparola, hai fatto sapere a tutti gli amici e a tutti i conoscenti che svolgi questo servizio. In tanti ti hanno chiamato anche sul cellulare personale. Certo, certo. Anche in casa dove io abito ci sono degli anziani e dove io ho aiutato. Rimanete a casa. Per la spesa ci pensiamo noi. Ed in questo momento particolare, delicato, difficile, emerge via in fuori l'Italia migliore, in questo caso tarantini volontari. Parliamo di scuola, o meglio, della scuola ai tempi del coronavirus. Come direbbe qualcuno, parafrasando l'espressione ormai tanto usata in questo periodo. Parte la didattica a distanza, già è partita da tempo, e la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, dice per la maturità non parliamo di esami semplificati. Quindi, giovani studenti, non cantate vittoria. Il ministero si sta preparando a tutte le eventualità, scuole chiuse anche dopo il 3 aprile. E la ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, a dire riapriremo gli istituti solo quando ci sarà la certezza della sicurezza. Sulla maturità stiamo pensando a varie soluzioni, non abbiamo ancora parlato di commissioni interne o esterne. Non mi piace la parola esame semplificato, gli studenti vogliono un esame serio, in linea con quello che stanno apprendendo. Sulla didattica a distanza sicuramente la situazione è variegata, c'è un grande sforzo da parte di docenti e dei genitori, aggiungiamo noi, l'anno scolastico sarà comunque salvo in qualsiasi caso. E mentre i genitori, soprattutto dei più piccoli, si dividono magari tra lavoro, l'essere mamma, papà ed insegnanti, fa il giro delle chat la riflessione del professor Vittoriano Caporale, professore di storia della pedagogia nell'Università degli Studi di Bari. Care mamme, cari papà, cari insegnanti, cari amici, sto sentendo molti di voi che si stanno lamentando e preoccupando perché figli non svolgono i compiti assegnati e non studiano come al solito. Vi dico, con tutto il cuore, con la scienza pedagogica e l'esperienza didattica acquistata in 50 anni di insegnamento all'Università, non importa. In questi giorni i vostri figli stanno imparando quello che il pedagogista bitontino Giovanni Modugno chiamava scienza della vita e che la scuola verbalistica, strata, memonica e burocratica non insegna. Stanno imparando ad affrontare le difficoltà impreviste, a rinunciare alla libertà dei movimenti e delle relazioni amicali per il bene comune, a capire che la salute è un bene da salvaguardare, anche se comporta tante rinunce ed il ridimensionamento delle abitudini quotidiane. Stanno imparando il valore dell'attesa e della speranza, stanno apprezzando tutto quello che ogni casa offre, libri, giocattoli, tv, cani, gatti, uccellini, altri animali e cose. Stanno imparando a pregare, a capire che l'umanità è un'unica grande famiglia che soffre e che spera, al di là dei confini geografici. Ed ancora, stanno imparando l'importanza della solidarietà, che può essere rafforzata col sorriso, con la parola affettuosa, col ricordo. Stanno sperimentando che i cellulari, i tablet e le altre tecnologie fanno sentire meno soli, a comunicare con gli amici vicini e lontani, a esprimere i nostri sentimenti e a volerci più bene. Con affetto, un anziano professore di storia della pedagogia, padre e nonno. E le scuole ferme, meglio chiuse, rappresentano un problema. Le ragioni di questo, la posizione di questo, all'interno e nell'ambito delle riflessioni della segretaria nazionale dello SNALS. Elvira Serafini. Sentite. La salute prima di tutto, questo è chiaro, ma un grave contraccolpo in queste settimane a causa del coronavirus lo sta vivendo il mondo della scuola, già gravato da diversi problemi, a partire dal precariato. Come si farà a rispettare i programmi? Con quali modalità si terranno gli esami di maturità? Se la situazione dovesse permanere critica? Alcune delle domande che molte famiglie si pongono in queste particolari ore, allo sforzo di famiglie e soprattutto studenti, corrisponde il grande senso del dovere dei docenti italiani. Nella speranza che la situazione possa migliorare, bisognerà in ogni caso organizzarsi. A rispondere alle nostre domande in diretta, nel corso della trasmissione quotidiana dedicata al coronavirus, la segretaria nazionale dello SNALS Consal, Elvira Serafini. È un momento veramente difficile e su tutto il territorio nazionale registriamo una situazione di estrema difficoltà, vissuta a tutti i livelli. È chiaro che pensare che si possa ritornare a scuola il 3 di aprile è impensabile. Abbiamo subito avviato le lezioni a distanza, ci siamo inventati il tutto con velocità e dobbiamo dire che il mondo della scuola ha risposto in maniera veramente efficiente ed efficace, nonostante mille difficoltà, perché non tutte le scuole erano attrezzate, non tutte le famiglie erano attrezzate con computer. Altro problema, chi ha più figli ha trovato difficoltà in quanto non c'erano tanti computer per poter permettere il collegamento al mattino. E speriamo soprattutto per i nostri ragazzi che dovranno conseguire la maturità, che si possa concludere felicemente quest'anno così problematico, così veramente di pathos e di preoccupazione generale. Un anno difficile, delicato, piuttosto convulso, ma come diceva la segretaria dello SNALS nazionale, ma parafrasando un po' lo slogan di questi tempi, tutto andrà bene o andrà tutto bene come preferite. Intanto vi lascio all'informazione sportiva, anche oggi avevamo altro materiale da proporre alla vostra attenzione, ma vi rinnoviamo l'invito, quello delle 19.25 sempre in rigorosa diretta per gli ultimi aggiornamenti anche in materia di coronavirus. Intanto lo speciale è alle 15, subito dopo il nostro TG Sport. Rimanete sull'85. Grazie a tutti.